Sono circa 400 gli studenti che parteciperanno alla seconda edizione della giornata ecologica Puliamo il Parco di Viale Togliatti, organizzare la Versabba l'8 giugno dalle 9.30 alle 13.30 da Cogese e dal comune di Sulmona che ha concesso anche il patrocinio. L'ecoevento, che serve anche a celebrare la giornata mondiale dell'ambiente di oggi 5 giugno, rientra nell'iniziativa internazionale organizzata da AICA, l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale. Il posto scelto per la pulizia straordinaria è l'area verde di Viale Togliatti, nei pressi del parco giochi. Sono circa 300 gli alunni delle scuole medie che parteciperanno. In particolare si tratta di tutte le classi di prima media del circolora di Ciovidio per 100 ragazzi, più 7 classi della Mazzini Capograssi per un totale di 148, 2 della lora di Stefano Vidio per altri 43. A loro si aggiungeranno una settantina di studenti del Polo Vidio, 41 del liceo classico, 14 dell'artistico, 15 del Vico, circa 40 invece saranno gli alunni del Polo Scientifico. A loro sarà consegnato un attestato di partecipazione per i credili formativi dovuti alla partecipazione all'ecoevento. Nell'ultimo mese Sulmona ha raggiunto una percentuale del 76,6% di raccolta differenziata, con una media del 74,3%. Coggesa sta puntando molto sul coinvolgimento diretto delle persone, iniziative concrete come questa. Vogliamo ringraziare le scuole per la sensibilità dimostrata, interviene l'amministratore unico di Coggesa, Vincenzo Margiotta. L'invito è chiaramente rivolto a tutti e sono stati coinvolti i volontari delle frazioni, gli scout, la protezione civile, gli alpini, vari comitati e collettivi cittadini. A loro, agli studenti, a quanti vorranno dare una mano, andrà il nostro ringraziamento sabato, dicono dal Coggesa. Già da oggi, invece, dobbiamo dire grazie alla ditta Giancarlo di Cesare, che ha ripulito l'intera area verde dall'erbaccia in eccesso a proprie spese, ciò gratuitamente per la collettività. Per una maggiore tranquillità è stata richiesta la presenza di una pattuglia dei vigili urbani. Chiaramente, la pulizia sarà effettuata in sicurezza con una guida ambientale e con personale specializzato di Coggesa, che affiancherà tutti i partecipanti che saranno dotati della necessaria attrezzatura, guanti e sacchi.